La cultura del primo soccorso è quella che l'ASP di Raguse, insieme ad alcune scuole, sta cercando di far conoscere e diffondere nel territorio, per promuoverne l'utilità e l'oggettiva necessità. Essere tempestivamente pronti e relativamente preparati ad intervenire in casi di soccorso è cosa buona e necessaria, per fornire così, in tempi brevi, i primi necessari aiuti. Aderito a questo progetto l'Istituto Comprensivo Statale Padre Pio da Pietralcina di Ispica, dove si sono svolti degli incontri per docenti e genitori per un primo soccorso di base proprio a scuola. Lo scopo ultimo, nonché principale, è stato quello di formare un maggior numero di primi soccorritori. Persone competenti che all'evenienza potrebbero apportare necessari soccorsi, nell'attesa di accertamenti e interventi più mirati. Il centro di formazione IRC dell'ASP di Ragusa durante questi incontri ha illustrato e spiegato le tecniche di primo intervento e di rianimazione cardiopolmonare, spiegando anche le modalità di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno. Relatore dei corsi pomeridiani svolti lo scorso 7 febbraio e ieri è stato il dottore Antonio Nicita, nonché responsabile dell'IRC che ha organizzato questo percorso formativo di soccorso di base. Due ore di incontro mirate a questi primi interventi che potrebbero essere fondamentali. Il materiale didattico utilizzato e concernente il primo soccorso è disponibile sul sito www.settimanaviva.it per chiunque voglia consultarlo e scaricarlo. Un'iniziativa che facendo leva sulla sinergia tra istituzioni scolastiche e strutture sanitarie punta ad un'utile formazione.